Allora, giù in fondo c'è Porta Ufona e il nostro rione azzurro. Guarda, guarda il grande corno. Siamo in via San Ginesio. Vediamo Andassarnano, 10 km più in là. L'importante è che ci stanno i passaporti. Così male che va, parte un po' molto. Partiamo dalle origini. Un samurai che si gira per i Sibillini. Può essere il video, vuoi che ci sia stasera? Sì. 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 Sì.